Sette chilometri di strade, quattordici rotatori e due ponti e una serie di bretelle che andranno a formare un nuovo collegamento tra la statale adriatica sud attraverso Tombace e Via della Trave fino a costituire di fatto una nuova circonvallazione. Sono questi i lavori previsti per le opere compensative alla terza corsia della 14, un intervento di circa 60 milioni di euro compresi 10 milioni di espropri iniziato in questi giorni da parte di Società Autostrade per l'Italia. Ora non rimane chi attendere la definizione di ricorso innanzi al Tarra contro il diniego del nuovo casello di Fano Nord, ultimo tassello mancante di un sistema complesso e completo di opere infrastrutturali. Soddisfatto il sindaco Seri che ha già avuto modo di incontrare gran parte delle persone interessate agli espropri. Ho spiegato a queste persone che tutte quelle modifiche che possono essere portate in corso d'opera noi ci adoperiamo per verificarle, tenendo conto che siamo nella fase esecutiva. Tutta la fase di discussione e di progettazione è già avvenuta agli anni precedenti. Quali sono i benefici di questa infrastruttura? Allora, prima cosa, diciamo, questa infrastruttura nel lato sud permette di dare un'alternativa al ponte sul fiume Metauro, che è l'unico per la zona di Fano sicuramente, quindi un'alternativa importante. Inoltre permetterà un collegamento molto più rapido dalle zone di San Costanzo e Mondolfo per arrivare alla zona industriale e quindi snellirà il traffico fura statale 16. D'altro canto, il nuovo svincolo, così come pensato, eviterà ad esempio di andare a intasare il ponte di Sant'Orso, perché i cittadini che dovranno andare verso Marotta ed escono dall'autostrada riusciranno a congiungersi alla Bretella in maniera molto più comoda, evitando di entrare in città con il traffico di attraversamento. Inoltre il collegamento migliore anche verso il nord della città, Fano Nord, verso il Fenile, perché ovviamente si eviterà di passare per la città, si eviterà di passare in via Roma, si eviterà di passare nella zona della Trave e si arriverà direttamente alla zona di Belgatto in maniera molto più semplice e diciamo senza intasare il centro città. La careggiata partirà dalla strada provinciale di Fenile fino alla zona di Tombaccia, non è ancora stabilito però da dove partiranno i lavori perché società autostrade dovrà confrontarsi prima con il comune di Fano. Facciamo una strada che parte dalla strada provinciale di Fenile, quindi con una rotatoria si innesta in questa provinciale e arriva fino a via Flaminia. Dalla rotatoria di zona Belgatto attraversiamo l'Arzilla e arriviamo fino a via Roma, quindi parallelamente quasi all'autostrada. Da via Roma si riutilizza il tratto esistente di via Roma, altra rotatoria, questa è un'altra bretella che arriva fino alla zona del Codma, quindi qui siamo in via Campanella. Poi qui si riutilizza la viabilità esistente e c'è un'altra serie importante di opere di adduzione al casello esistente, quindi per entrata e uscita. Poi si oltrepassa da via Papiria e da via Papiria arriviamo fino alla Tombaccia. E a questo punto come procederanno i lavori? A questo punto dalla rotatoria di innesto con la via Papiria ci sarà l'adeguamento della via Mattei fino all'incontro all'altezza dei nuovi hangar dell'aeroporto, dove inizierà una nuova arteria che proseguirà attraverso un sistema anche di rotatorie con un ponte in affiancamento al ponte esistente dell'autostrada, proprio per limitare anche l'impatto ambientale molto elevato e raggiungere la provinciale orcianese con un sistema di due rotatorie, una sulla via di Caminate e una appunto sull'orcianese. È possibile invece modificare il percorso in zona Tombaccia? Dunque abbiamo già in passato provato a modificare il tracciato ma questa situazione presa in esame interferiva con la linea dorsale dell'Agip e quindi non è stato possibile spostare tutto il tracciato a monte dell'autostrada. Per cui questo tracciato è l'unico possibile, cercheremo tuttavia di migliorare per quanto possibile la situazione dell'esistente cercando di limitare i danni alle famiglie il più possibile.